ragazzi guardate questa foto e ditemi se notate qualcosa di particolare vi lascio qualche secondo per osservarla attentamente le persone più informate avranno già riconosciuta l'immagine perché questo secondo me è il termine giusto da utilizzare si tratta dell'immagine di sofia goggia sciatrice olimpionica insomma famosa ok ritratta col suo cane giusto bene questa foto o questa immagine è stata realizzata da massimo sestini fotografo fotogiornalista conosciuto sicuramente da molte persone ed è stata la foto o l'immagine di copertina del settimanale 7 che è un settimanale del corriere della sera quindi capite bene che parliamo personaggio famoso insomma famoso vip fotografo affermato corriere della sera il giornale più venduto d'italia cioè più di così insomma non so fatto sta che sta facendo parlare tantissimo di sé perché purtroppo non è una foto è un collage allora vi faccio vedere la foto originale avete visto che di fatto sono due immagini completamente diverse allora cosa è successo è successo che alla foto originale sono stati cambiati capelli è stato tolto un piede destro perché a quanto pare era poco fotogenico e ci hanno messo un bel piede sinistro ma anche il braccio magicamente è diventato un braccio particolarmente lungo un po allettino insomma un braccio abbastanza innaturale ma d'altro canto sappiamo che ormai è stato dichiarato apertamente che ci sono gli alieni i rettiliani per cui potrebbe essere che le prestazioni stratosferiche in ambito sciistico olimpionico della goggia dipendono appunto dal fatto che in realtà è la rappresentazione umana di un rettiliano per cui tutto può succedere allora come si è giustificato il fotografo insomma massimo sestini ha detto io in quel momento in quel periodo era impegnato e ci avevo praticamente il l'imbarco e quindi dovevo sbricarmi dovevo passare a casa vivo a bologna sai con i 30 chilometro orari ci metti troppo tempo quindi devo sbricarmi passare a casa ho dovuto considerare tutti gli impedimenti fatto stare non c'era neanche la valigia mi sono scapicollato ho lanciato ho finito la foto ho lanciato la proprio la macchina fotografica l'assistente che l'ha presa al volo tipo ollie benji e praticamente è partito è andato lontano senza internet senza essere collegato una sorta di clinica sapete quelle di disintossico dagli smartphone no cioè quella roba lì e quindi ha lasciato quel poro sfigato dell'assistente a parte a portarsi a ricaricare in macchina tutta l'attrezzatura smontarla chili e chili di attrezzatura fotografica e poi arrivare davanti al computer e decidere di testa propria autonomamente come inventarsi la foto e lui ha detto ma sti capelli ma perché dobbiamo avere i capelli naturali ma li cambiamo ma d'altro canto ormai è normale fare le estensioni fare tutte queste cose quindi ha cambiato i capelli poi ha detto ma questo braccetto è troppo corto anche se la sciatrice è un pochino paffutello allunghiamolo rendiamolo un pochino più moderno ripeto un pochino più rettiliano facciamo queste queste opere per il bene del mondo e della nostra goggia dopodichetto ma sto piede destro ma veramente sta male sta male mettiamoci un ben altro bel bel piede sinistro e quindi ha creato questa opera contemporanea che andrà al moma probabilmente e quindi ha deciso autonomamente sempre autonomamente di mandarlo alla redazione che grazie loro 47 foto editor che controllano ogni pixel delle immagini che gli arriva di fatto hanno detto questa è una foto bellissima autentica perfetta la mettiamo in copertina l'hanno pubblicata l'hanno messa anche su instagram qualcuno giustamente ha fatto notare dice ma goggia ma non è che per caso il tuo segreto per diventare campionessa è proprio quello di avere due piedi uguali cioè due volte un piede sinistro ma non è che quello il tuo segreto del successo oppure avere un braccio particolarmente lungo che ti permette no di racchettare meglio cioè spiegami un attimo insomma ragazzi sto casseggiando ripeto però veramente fanno ridere queste cose per non dire che fanno piangere in realtà questa è stata la motivazione però del fotografo ha detto l'assistente senza dirmi nulla ha fatto sto scempio e adesso sono io che ci vado in mezzo come credibilità no perché poi chiaro queste cose intaccano la credibilità secondo me ormai neanche più di tanto vi devo dire la verità siamo in un mondo di talmente folle dal puntista della comunicazione credo che il giornalismo in generale non è stato mai non abbia mai raggiunto livello così basso ma nemmeno nei periodi del della seconda guerra mondiale o prima della seconda guerra mondiale siamo veramente un periodo folle ma comunque non è questo il tema non è una questione di politica fatto sta che io semplicemente non credo che un assistente o addirittura un foto ritoccatore professionista esterno ancora peggio non ci credo ancora meno abbia preso se si è preso la briga di modificare così tanto un'immagine e poi mandarla al giornale sapendo che una foto tra l'altro di copertina ok io non ci posso credere per me è impossibile questa cosa sia andata così cioè a parte il fatto che io come fotografo ti sputtano subito e pubblico il tuo nome come foto ritoccatore e non ti faccio più lavorare ma seconda cosa ti faccio a causa perché hai veramente un danno d'immagine importante cioè o meglio in un mondo normale sarebbe un danno d'immagine importante magari grazie a questo il successo aumenterà ancora di più e poi guarda ne stiamo parlando in tanti quindi alla fine è tutta pubblicità quindi io non posso pensarci se è così veramente siamo si è ribaltato il mondo ma di solito un foto ritoccatore un assistente intanto segue gli input che gli dà il fotografo ma mettiamo pure che ha una certa libertà perché lavorano da parecchi anni quindi in qualche modo c'è una sorta di collaborazione di fiducia ma io prima di mandarlo al giornale in un'epoca come questa che non è nell'epoca in cui tu prendevi il rullino lo spedivi insomma c'erano i piccioni viaggiatori cioè oggi in una frazione di secondo cioè condividi praticamente tutto ti mando la foto mi dice ti piace ti va bene mi dai ok funziona così ragazzi dai funziona così quindi è veramente incredibile questa storia e devo dire devo dire che a meno che effettivamente il foto ritoccatore l'assistente non si sia mosso in maniera autonoma in maniera così folle ma se così non fosse io credo che le dichiarazioni da parte del fotografo siano veramente spiacevoli sul piano umano è un po' quando vi ricorderete il fatto di steam mccary sicuro che vi ricorderete il il la foto dove praticamente da un piede usciva un palo no sostanza era fatta stata ritoccata male e steam mccary ha detto è colpa dell'assistente del insomma del di colui che ha fatto il fotoritocco dando anche nome e cognome insomma quindi sputtanandolo proprio alla grande ma secondo me non è così è vero ok ammettiamo pure che il fotoritoccatore ha lavorato male e ha fatto una cappella perché magari andava di corsa doveva essere consegnato in tre secondi eccetera eccetera perché poi le dinamiche sono spesso queste ma rimane il fatto che la responsabilità ultima di ciò che esce in uno studio è quella del fotografo responsabile cioè il nome che viene messo sotto un'immagine è la tua se tu fai una stampa e la stampa di steam mccary viene viene appesa al museo x y oppure a una mostra particolare è il nome tuo sei tu che devi verificare tutto quanto ora capisco parliamo di persone molto impegnate che effettivamente hanno committenze che gli danno tempi strettissimi e quindi questo può succedere cioè l'errore è umano diciamo la verità cioè questo può capitare ma questi sono errori gravi e io sono convinto che se questa cosa è stata fatta vuol dire che era la normalità almeno per quel tipo voglio pensare solo per il tipo di questo genere di fotografie cioè le copertine delle diciamo chiamiamole una sorta di advertising no perché poi sono dei redazionali comunque al di là di questo per questo tipo di servizi è dopo è normale ritoccare e ricreare di fatto al computer la foto questo penso che sia così perché se non fosse così ma l'assistente gli verrebbe mai in mente di fare una roba del genere cioè se non fosse la normalità di ricreare partendo da una foto reale un'immagine al computer parleremo dell'impossibile quindi ritengo che alla fine la responsabilità sia del fotografo almeno per quanto riguarda ciò che esce dal suo studio una volta c'erano i foto editor e a volte e spesso in alcuni casi erano anche gente con due maroni importanti c'è gente competente che non siamo in un periodo in cui il fotogiornalismo stia toccando dei picchi di etica e di realismo particolarmente elevati fatto sta che il foto editor o era in vacanza oppure lui dormiva non si è accorto che c'era qualcosa di particolarmente anomalo nella foto perché si vede che c'è qualcosa di strano ma secondo me non c'era neanche il foto editor insomma come spesso ormai succede fatto sta arriva questa foto bene praticamente confezionato l'articolo e si va in stampa o quantomeno nella pubblicazione social ora ragazzi voi direte ma damiano ma ti stupisci ancora di questa cosa beh francamente un po mi stupisco nel senso che conosco quest'ambiente in buona parte non ho mai fatto servizi fotogiornalistici per cui non mi permetto di dare giudizi in tal senso però comunque sono stato a contatto con agenzie che si occupavano del ritocco la grafica insomma la preparazione del layout per la pubblicazione di importanti riviste settimanali periodici eccetera italiani e non solo e ho visto tante volte perché conoscevo appunto queste persone mi facevano vedere il prima e il dopo e sicuramente ci hanno dei ritocchi importanti dal punto di vista dell'estetica dal punto di vista del del magari un po il doppio mento piuttosto che ti faccio un pochino più magro ti tolgo la cellulite insomma tutte queste cose qui per me è onestamente immorale io ripeto vivo su questa terra e quindi so come gira un po il mondo personalmente lo ritengo immorale un pochino di fotoritocco c'è sempre stato arrivare a cambiare il corpo di una persona mi sembra veramente tanto vi devo dire la verità per come è stata fatta la post produzione quindi il fotoritocco mi sembra onestamente più opera dell'intelligenza artificiale a cui poi eventualmente l'assistente ci ha messo un pochino di fino no di la fatto un po di lavorazioni di fino che diciamo così perché mi sembra proprio il lavoro tipico dell'assistenza della dell'intelligenza artificiale che tu praticamente dai uno script gli dici mettigli in braccio mettici in altro piede ma l'intelligenza artificiale non è che si pone se quello il piede destro il piede sinistro a me da questa idea chi di voi ha provato ad esempio un'intelligenza neuronale chiamiamo l'intelligenza neuronale di photoshop probabilmente sarà capitato di vedere queste cose veramente anomali soprattutto sul corpo umano che è molto complicato da da riprodurre potrei sbagliarmi non lo so e non lo sapremo sicuramente mai fatto sta ragazzi io sono convinto che di queste cose lo vedremo sempre più spesso di di mistificazioni fortissime di contraffazioni incredibili fenomeno tra l'altro amplificato all'ennesima potenza dai social insomma ormai lo sapete no se girate un pochino instagram e avete girato il mondo un po dire di differenza no tra quello ti fanno vedere quello che poi è nella realtà sono avrete notato quindi ormai va così è un peccato perché chiaramente ci perde il fotogiornalismo ci perde la credibilità del fotografo ci perde la credibilità della fotografia questa è la cosa che vi devo dire la verità mi dispiace più di tutti e conferma in me l'opinione che ho già espresso in altre riflessioni fotografiche ormai la vera fotografia è appannaggio di qualche artista di qualche autore ma soprattutto è un processo intimo la vera fotografia è per noi stessi per godere di un ricordo di un'immagine che ci ha fatto emozionare per godere della soddisfazione di essere riuscito a realizzare quello scatto insomma è qualcosa di interiore per tutto il resto ci dobbiamo veramente chiedere ma è una fotografia o qualcosa creato al computer purtroppo oggi viviamo in questo mondo fatemi sapere voi cosa ne pensate se siete d'accordo non siete d'accordo se vi colpisce questo questo fatto insomma voglio sapere la vostra opinione ci vediamo al prossimo video ciao